Per me è proprio quella l'origine, perché se tu pensi cosa succede con Trump, Trump fa una campagna nel 2016 condita di insulti, condita di insulti sanguinosi, condita di volgarità, personale e il momento in cui lui diventa presidente sdogana questo modo di far politica, il modo più basso, più volgare, che quello che in qualche modo lui in questo momento riprende, nonostante i suoi gli dicono no, parla d'economia, parla di progetti, lui riprende esattamente questo, questo modo di far politica. E il momento in cui diventa, entra la Casa Bianca, lo sdogana per tutti, in Europa, in Occidente, in Italia, quindi è assolutamente conseguente questo scambio di insulti, testicoli umani o non umani, diventa in qualche modo anche questo parte della politica e della comunicazione politica, che spesso poi copre la mancanza di progetti e la mancanza di cose reali.